Buongiorno a tutti, io sono Roberta Galentino e sono una delle psicologhe che collabora con AIST e questo è il primo video che AIST ha deciso di pubblicare. Obiettivo di questi video sono proprio informare, illustrare le novità di AIST e rispondere alle vostre domande o dubbi. Infatti già da oggi potete inserire nello spazio dei commenti qui sotto il prossimo argomento che vorrete vedere discusso nel prossimo video. Questo perché voi fate parte di AIST, ma torniamo un passo indietro. Che cos'è AIST? AIST è l'associazione italiana Sindrome di Tourette che lavora in tutto il territorio italiano, nord, centro, sud e isole e ha due obiettivi principali, quello di migliorare la conoscenza della Sindrome di Tourette attraverso dei convegni, dei seminari, dei corsi di formazione per tutte le professioni che gravitano intorno alla Sindrome di Tourette e supportare le famiglie e i pazienti touretteani attraverso supporto psicologico quindi per esempio gruppi di incontro per pazienti e famiglie, supporto legale e aiutarvi concretamente nella ricerca dei centri specializzati nella Sindrome di Tourette. Oggi AIST ha sede presso il centro Tourette e Sindrome correlati a Milano in via Faraventi dove potrete venirci a trovare scrivendo una mail a segreteria.aist.gmail.com e dove potrete incontrare tutto lo staff di AIST il presidente Riccardo Breusa, la vicepresidente Donatella Comasini, me, dottoressa Roberta Galentino altri psicologi e soprattutto tanti altri genitori che collaborano con AIST Per continuare a sviluppare al meglio i nostri progetti abbiamo bisogno anche di voi infatti cerchiamo genitori e psicologi che vogliano essere referenti regionali per AIST e se foste interessati inviateci una mail a segreteria.aist.gmail.com Per qualsiasi altra informazione relativa ad AIST andate a visitare il sito www.tourette-aist.com e nel frattempo noi qui sotto nei commenti aspettiamo gli argomenti che voi volete vedere nei prossimi video A presto, grazie!